Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi preparo una bruschetta con fiori di zucca. Ho lavato delicatamente i fiori di zucca per non sciupare il petalo e adesso tolgo il gambo e i pistilli esterni. Poi li sminuzzo. Li rimetto nella ciotolina poi taglio finemente un aglio e lo aggiungo ai fiori di zucca. Taglio anche del fior di latte e lo metto nella ciotola. Metto dell'olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. In una teglia da forno che ho spennellato con dell'olio metto delle fette di pan bauletto e le ricopro con i fiori di zucca e il fior di latte. A questo punto in forno per una decina di minuti. Ed eccole qui, le bruschette con fiori di zucca sono pronte! Grazie! 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 Grazie!